Le vittime delle estorsioni si sono ribellate alle minacce e alle continue richieste di soldi e così i carabinieri hanno arrestato tre persone ad Acerra. I tre, secondo quanto appurato dai militari, si sono rivolti con frasi minacciose nei confronti di uno degli operai presenti in un cantiere edile ad Acerra, impegnato nella ristrutturazione di un edificio per costringere il titolare della società a versare un'imprecisata somma di denaro a titolo estorsivo. Decisiva la denuncia che ha fatto scattare le indagini. A indagare i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della stazione di Acerra, coordinati dalla DDA di Napoli. Un'altra operazione contro le estorsioni è stata condotta dalla polizia di Napoli a Scampia e ha portato a cinque arresti. Gli indagati ritenuti gravemente indiziati di estorsione e porto abusivo di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. L'ordinanza è stata emessa dal GIP di Napoli su richiesta della DDA partenopea nell'ambito delle indagini che hanno permesso di far luce sulle recenti conflittualità registrate per il controllo delle attività nei lotti T del quartiere Scampia tra il gruppo criminale dei Raya e alcuni componenti della famiglia notturno. I cinque destinatari dell'ordinanza sono tutti ritenuti legati ai Raya e secondo quanto ricostruito dalle indagini avrebbero posto in essere alcune azioni intimidatorie con spargimenti di liquido infiammabile ed esplosioni di colpi d'arma da fuoco, azioni che nelle scorse settimane hanno determinato l'allontanamento di alcuni esponenti della famiglia notturno dalle loro abitazioni di Scampia.